Ho citato la conversazione, l'imperatore esagerò sulla sua corte sul relativo ceremoniale. Intorno a qui si fermò lungamente. Ecco quanto mi fu dato di raccogliergli il proposito. All'epoca della rivoluzione, diceva egli, la corte di Spagna e di Napoli, conservavano tuttavia l'importanza e la grandezza di Luigi XIV, commissi l'imposità e l'esagerone dei castellani ai memori. Essi erano tristi in uno e ridicoli. La corte di Pietro Borgo aveva preso i fari e i modi delle eleganti conversazioni. Quello di Viena sarà fatto popolare e rimanevano più tracci del spirito, del grazie e del buon gusto di quello di Versailles. Napoleone, ragionando il supremo potere, trovò dunque, come suol dirsi volgarmente, tavola rasa e poteva formare un accordo ai piacere suo. Ai ricercò, diceva, un' ragionavola transazione. Intendo conformare la dignità del trono con nuovi costumi e farla specialmente servire al miglioramento delle maniere del grani e all'industria del popolo. Per fermo non l'era piccola impresa, quella di rialzare un trono su quel suolo medissimo. O farassi conformi gli udiziari di capitato, il monarca regnante. E dove ogni anno scirovassi costituzionalmente odio ai re. Non era impresa di pigliarsi a capo quella di ristorare la dignità. I titoli, le decorazioni, in mezzo ad un popolo che combatteva e trionfava da ben 15 anni con solo fini di proscriverli. Nulla di meno, Napoleone, il quale sembrava fare sempre quanto voleva, perché, diceva Egli, aveva l'arte di voler quanto era giusto e conveniente. Tronco, decisamente si è fatta di difficoltà. E letto imperatore, creiò i grandi e si compose un accordo. Non guarì la vittoria, parvi assumersi il caricco di raffermare ed illustrare il nuovo ordine dei corsi. L'Europa lo riconobbe. E vi fu anzi un momento in cui sarebbe detto che le corti del continente fossero accorsi a Parigi per comparire quella del Tuilerie, la quale riesce la più splendida e numerosa che si fosse mai veduta. E vi essi i suoi circoli, le sue danze, i suoi spettacoli. E vi si fa mostra di una magnificenza e grandezza straordinaria. La sola persona del sovrano mantiene e continuò un'estrema semplicità che diventò un suo distintivo. Ciò avveniva, diceva Egli, perché il lusso ed il fasto che incorrigiva intorno a lui, entravano nei suoi calcoli, le non nel suo gusto. Questo lusso e questo fasto erano promossi per tenere viva ed infiori le nostre manufatture e le nostre industrie nazionali. Le ceremonie e le feste del matrimonio dell'imperatrice e quelle del battissimo, il re di Roma. Si lasciarono dietro di gran tratto tutti quelli del passato e non si rendono vela rano, forse più o mai.